Grazie a tutti. Si attiveranno piogge locali rovesci. Uno sguardo a Savona e anche qui la situazione non cambia. Il tempo sarà per lo più stabile ed assolato ma qualche disturbo sarà possibile in serata. Si starà bene nel pomeriggio con punte massime di 15-17 gradi. Su Genova sarà una bella giornata, lieve aumento e temporaneo della pressione atmosferica, garanzia di estesi, rasserenamenti e temperature massime attorno ai 17-18 gradi. Anche sul Tigulio sole e clima molto mite nelle ore pomeridiane. Insomma riusciremo anche ad avvicinarci ai 18-19 gradi localmente. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sullo spezzino. Anch'esso interessato dall'aumento della pressione atmosferica godrà di bel tempo e stabilità, sole di fatti prevalente e clima piacevole. Nella giornata di martedì giungerà una perturbazione atlantica. Sarà responsabile di un aumento della copertura nuvolosa, fuoriera di precipitazioni, fenomeni talora abbondanti e intensi. Rinforzerà la ventilazione e avremo un conseguente leggero calo delle temperature. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito, come sempre, sulla nostra app gratuita Trebbi Meteo.